bella raga oggi torniamo con i nostri video di minecraft siamo nella nostra serie in ultimate e come vi avevo promesso ho finito questa schifezza di cose che non è proprio una schifezza praticamente qua il brutto era che io avevo sbagliato questo è un retriever, serve il retriever fa, perdon fa e quindi ho sbagliato adesso questo deve andare su per iper mega velocissimo se no si tasa tutto avevo preso anche la cesta da qua per fare la prova ho bisogno di un pezzo di gravel ma uno proprio non lo ne abbiamo un po' ok su quel del sono un po' rauqua ho dovuto aggiungere tipo mille mila solar panel qua su se no non funzionava non ho neanche capito perché qua ho dovuto togliere il retriever qua l'ho buttato il retriever che c'è non lo stanno mettendo la roba qua no io ho sbagliato ok ok adesso qua forse un po' sin casa ma non importa adesso noi dobbiamo fare una bellissima cosa prima di tutto prima di tutto soltiamo l'inventario in una cesta se la teniamo giro non l'abbiamo soltata quasi del tutto perché qua saremo invasi dalla scrap l'invasione è cominciata ragazzi oh yeah l'invasione è cominciata ok qua adesso dobbiamo fare dei tubi quindi la mettono la quindi useremo i tubo di legno quello di cobblestone quelli la ho colto tutto bene bene poi dovremo craftare un mass fabbricchetto eccetera 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 dobbiamo fare infiniti e infiniti e no e infiniti cose e aiuto è un overclocker si overclocker no oppure possiamo fare un'altra cosa un altro recycler buono si mi piace fare le cose in grande mi piace fare le cose in grande ok allora per il compressor no vabbè facciamo il recycler così recicler ok ok machine block retro circuit altri tre ne facciamo? si altri tre quindi diciotto di gomma ne abbiamo diciotto di gomma diciotto di gomma diciotto di gomma questi servono tre close e no non abbiamo gomma non abbiamo gomma? può essere questo e si può essere ah vediamo questo scherzo andiamo a dormire piantiamo un po' di alberi un po' di bonilla eccetera eccetera po eccetera eccetera lascio più e perchè non cresci? allora intanto noi dobbiamo fare tre di questi quindi dobbiamo prendere per ogni machine block otto tre per otto ventiquattica 13 più 11 ok e ne dobbiamo coccere più altri 6 però per ogni perché ci ne vogliono due per fare per recycler ok 6 e adesso siamo a craftare machine block 1 2 3 ok questi 3 machine block più questi 2 servivano dopo più della terra ma non importa cosa serviva vediamo un po' di bolli si è successo tutto il casino non ho parole ok non è male ok vediamo poi se le maceriamo no andiamo a far crescere un po' gli alberi e se non crescono per il cactus così per quanto dello scactus eh sì facciamo un po' i boscaioli boscaioli non so non so c'è un pezzo di gomma l'ho vista ok dovrebbero passare se si rubber extractor ah quindi e allora dobbiamo fare un bel po' di electronic circuit allora 3 electronic circuit quindi sono già 9 per lo stare sì 16 18 5 più così tutti tutti i cavetti e le mancano tre dovrebbero cavetti adesso ne facciamo un po' di più mmm cincento così dovrebbero bastare eh non abbiamo contatto il ferro è finito per 1 2 no la redstone accidenti devo rimettere tutto a posto mua eh dai con questa redstone quanto ti odio mmm mmm ok così va bene altri tre pezzi di ferro da cuocere abbiamo un po' di ferro allora no qua quindi adesso dovremmo avere tutto ma non devo fare il compressor no aspettate che ci voleva ah ok non ci voleva me ah ok ne ho messo a di sete di sete 1, 17, quindi, niente, quindi, 1, 17, ok, perfetto, ah, whatsapp, adesso la metto qua, c'era, ah, un messaggio, non sa, stai, stai, non sa, non sa, non so, non sa, non, sai, non sa, non è, quindi, no, 나, beh, ragazzi, come mai, poteva, man, menovele, allora, grazie! ah, grazie, grazie, ah, grazie, che, grazie! Spera, grazie, eh, magari, è diverso,你要... sì sì ho fatto 3 3 compressi sono tutti conti i need terra non ho tempo su non sarà anche mille mila per croccare non lo vuole io li odio non li vuole più fare perché non funzioni più devo riavviarlo? sì può essere forse devo riavviare il timer questo deve riavviare di nuovo il retriever può essere quanto lo odio odio la redstone fap 2 no no non lo scrive che bello dover tornare su devo prendermi la terra prima bucina terribile oddio i need screen terribile ne ho due mi ha fatto nemmeno mi ha fatto nemmeno così? no mi ha sbagliato ok tiè 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 chiè tiè 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 perchè non funziona più adesso? non fa più perché non funziona più adesso forse l'ho messo forse ho sbagliato non riceve il segnale direi di stanno forse perché non lo dicevi io non lo sto ricevendo perché adesso non lo dicevi forse ti piace di più così vabbè ci pensiamo dopo non importa c'ero là mezz'ora a fare quella cosa fa più del cosa è sempre bloccato abbiamo i pneumatici no non abbiamo neanche i pneumatici tubi devo spostare il burro i need barrel i need barrel perché non mi da il burro perché non mi da il burro perché non mi da il burro è 3 nooo mi sembra il bar il burro si adesso si si il barra il barra si si ok tutto posto il primo il 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 primo chiudo perché lo Non ha molto senso metterlo così, giusto? Basta che io faccio una cosa così. E mi risparmi un bel po' di cavetti. No, da no! Allora, cavo, cavio adesso. Ok. Adesso dobbiamo solo far ripartire questa scherzata. Se lo metto così, ti piace di più? Ok. Dai! 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 No, mi ha fatto uscire la cobblast. No, non so che la vita fa. Le... Telefono, microfono. Uffì, che complicato questa cosa. No, non è niente. No, non è niente. No, non è niente. No... Ma perché? Perché lo fai? Forse il contrario. Perchè cavolo funziona? Quanto ti odio. Perchè ti sei rinvato prima? Adesso è un casino. Che ti è successo? Non so, hai parlato? Si. No! Ho cresciato. Vabbè. Dai, vabbè ragazzi. Io ci ritento. Mi fate vedere più o meno come si faceva. E quindi per ora è tutto. Con Minecraft crashato qua eh. Ci vediamo in un prossimo episodio. Arrivederci.